Ciao a tutti, sono Giovanni Saldì da Paratissima, siamo a Torino Esposizioni, siamo in compagnia di uno dei fondatori di Paratissima che ci dirà due cose. Ci dici com'è nato questo progetto? Questo progetto è nato semplicemente dall'esigenza di volere fare qualcosa che non esisteva, qualcosa che ci poteva dare la sensazione a noi giovani di poter essere ed esprimere quello che volevamo. Se oggi, all'epoca si parla di nove anni fa, se ti ricordi, perché adesso le cose sono molto cambiate, nove anni fa fare qualcosa del genere significava appoggiarsi al comune, appoggiarsi alle istituzioni, il che significa assemblee noiosissime per poi ricevere forse dei piccoli contributi o forse niente, quindi senza concludere niente, avere perso tempo e con la voglia, la foga di voler fare qualcosa. Ci siamo incontrati insieme a Lorenzo, Daniele, Raffaele e Valeria, ci siamo guardati, ognuno aveva un'esigenza, io voglio fare questo senza bisogno di nessuno, io vorrei fare questo senza bisogno del comune, io vorrei fare questo senza bisogno delle istituzioni. Da lì è nata un'unica esigenza, quella tutti insieme di volere fare qualcosa. Questo è il motivo perché è nata Paratissima, poi ovviamente ci sono state le evoluzioni che hanno portato Paratissima all'epoca e sarà quella che ha attuato, quindi con progetti convenzionati che si sono introdotti e hanno iniziato a creare questo nuovo circuito che si deve essere un'unica esigenza. quest'anno il livello della manifestazione è salito notevolmente, dando possibilità anche alle curatrici, alle giovani curatrici di creare delle vere e proprie mosse. Quello è proprio uno degli scopi che siamo riusciti a raggiungere, perché noi quando siamo partiti non eravamo né curatori né neanche artisti, io facevo il fotografo, ma per mantenermi, come Daniele che faceva l'architetto e il fotografo, per mantenersi, ma nella nostra idea c'era proprio quella di dire, ma ci sono tutti questi ragazzi, queste persone che hanno una voglia incredibile di fare qualcosa e se non sei un artista affermato in galleria non c'è. E la dici, ma perché uno che magari è una brava persona a fare quello che fa, non può avere il suo spazio per essere conosciuto, devi per forza già essere ricco affermato. No, vuoi essere qualcuno che dal niente può uscire, paratissima da questa opportunità come magari successa Federica. Federica Blazzoli è la creatrice di questa mostra, ci dici qual è il tuo progetto di questa mostra? Il progetto è Your Perception, questa progettazione, grazie a Paratissima che ho avuto la possibilità di selezionare nel tuo bet artisti, 16 artisti da pubblicare in mostra, è molto interessante perché anche per me è la prima esperienza, ho potuto incontrare moltissimi artisti, scegliere insieme a loro le opere, allestire insieme a loro e creare un cosiddetto che andava via via poi nascendo, quindi ha così la sua strada. È stata una bella opportunità che sicuramente Paratissima mi ha dato e non tutti investono sui giovani appena scelte l'università, invece Paratissima essendo poi appunto uno staff fatto di persone giovani che hanno voglia di fare qualcosa nel mondo dell'arte contemporanea, quindi è una bellissima esperienza, anche consigliere assolutamente. Da Palazzo delle Esposizioni Torino è tutto, vi ringraziamo, siamo stati nei tre minuti, per il petto, ciao! Ciao!